di linea ad Emilio Migliaccio nelle fasi iniziali ok ok attaccato a largo da Portento i due apparigliati all'imbocco della prima curva sta passando Portento seconda posizione è National TRGF il galoppo di Portento National rimane al comando e a largo interviene subito ok ok alla corda anche Laser ZN lancio in 14 ok ok va ad impugnare National sta ottenendo il via libera al completamento del primo quarto 31 il quarto iniziale sono finiti a tabellone Portento e Mascalzone Lux riduce drasticamente il ritmo ok ok che percorre i 600 in 40 e precede National TRGF Laser ZN e Paganella nessuno interviene a largo il leader è libero di completare il primo giro in 1-3 e mezzo si arriva così al completamento del primo chilometro prova a farsi vedere Niklas S allievo di Di Nardolo percorre in 1.19 seguito sempre da vicino da National TRGF e Laser ZN a largo muove in terza ruota Midov F Midov cerca di scavalcare Niklas S che però si oppone va a lungo Midov F mentre il leader è sempre in assoluto controllo ultima frazione in 16.3 un'altra ancora in 15.5 leggera accelerazione Midov F arriva ai fianchi di Ok Ok che accelera e si tracina National TRGF stentano gli altri retta delle scuderie volata in 14 secchi Ok Ok in controllo poi National a largo perde qualche battuta Midov F poi Laser ZN dopo il 14 sulla retta delle scuderie ancora un 14 28 400 intermedi retta d'arrivo con Ok che prova all'allungo si avvicina National TRGF National prova la gancia Ok Ok che arriva ancora bene e va a concludere su National TRGF Laser ZN 3.4.2 l'arrivo probabile d'ufficioso media di 1.16.8 sul doppio chilometro notevole il giro conclusivo in 58.9 bene anche National TRGF al traino molto ma molto meglio e dal terzo interviene a centropista Laser ZN tornato in Grossapur e tutto dal Cilidiano per la settima più tardi per la Tris quarta e quinta NON l'arrivo 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 dell'arrivo l'arrivo Grazie.